Oggi sono qui con il mio labbra d'orachi per parlarvi di una disciplina sportiva, i working test per Retriever. La disciplina è nata per coltivare e mantenere vive le attitudini naturali di queste razze. Retriever deriva dal verbo inglese to retrieve che significa riportare. In un working test l'oggetto da riportare si chiama dummy. Il dummy è un salsicciotto di tela riempito di segatura che viene lanciato o posto sul terreno e che il cane deve recuperare velocemente e riportare consegnandolo delicatamente nelle mani del suo conduttore. Per partecipare a un working test occorre un minimo di educazione di base. Il cane deve saper camminare al piede, rimanere calmo e fermo in presenza di distrazioni e per poi mettere in campo tutte quelle che sono le sue doti naturali come memorizzare il punto di caduta del dummy e utilizzare il naso per trovarlo. I Retriever, come abbiamo visto, sono cani molto intelligenti, molto dolci e parlare di Retriever significa parlare di cani eccezionali che sono adatti sia per la famiglia che per lo sport.